Un sopralluogo in elicottero per visionare il territorio dell'Alto Mugello. Lo hanno effettuato il 12 luglio il Presidente della Regione Eugenio Gianni e il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione delle aree alluvionate dell'Emilia Romagna e dell'Alto Mugello. I due hanno poi incontrato i sindaci dei quattro comuni dell'Alto Mugello, interessati dagli eventi alluvionali del 16 e 17 maggio scorsi, le categorie economiche e i sindacati dei comuni. Per saperne di più vi rimandiamo a florens.tv